Il 2017 è stato un anno di crescita per il settore del private banking. Quali sono le evidenze emerse? Le evidenze sono che aumenta il perimetro del private banking perché aumentano gli operatori specializzati nel private banking, aumentano i patrimoni dei clienti private e aumentano i patrimoni dei clienti private anche grazie alla performance del mercato che ha contribuito per circa il 50% all'aumento delle masse del private banking. Quali sono nel dettaglio le evidenze principali che avete sottolineato? Le evidenze principali sono 50% di crescita dalla performance di mercato, sono cresciuti i mercati azionari, la diversificazione degli investitori private sui mercati azionari è importante. e per l'altro 50% proprio dentro l'aumento, dentro il perimetro del private banking sono arrivati nuovi operatori che hanno deciso di offrire servizi completi di private banking e quindi di gestione personalizzata e di consulenza evoluta ai propri clienti. Di quali operatori si tratta? Abbiamo oggi all'interno dell'associazione di private banking un numero crescente importante di reti che si occupano di private banking, che si sono affiancate alle banche private specializzate e alle divisioni private delle banche tradizionali. Grazie mille. Grazie.